Avevano chiesto carta e penna per scrivere, appuntare pensieri, riflessioni e preghiere. Richieste accolte, Massimo Carandente e Sabrina Fina hanno avuto la possibilità di mettere in nero su bianco qualcosa, soprattutto lei. Pochi giorni dopo però, questi appunti sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria a entrambi, perché ci sarebbero riferimenti a quanto accaduto nella villetta degli orrori. A incuriosire è stato soprattutto il block notice dato a Sabrina Fina, c'è il Salmo 23, ci sono delle domande da porre legali e poi alcune frasi che si riferiscono a due persone in particolare. La prima è la figlia minorenne di Barreca, l'unica della famiglia sopravvissuta alla strage. Si leggerebbe, avvertite i suoi legali che è in pericolo perché su di lei agisce ancora il demonio, lei che sarebbe stata salvata dall'arrivo di una forte bufera che i fratelli di Dio e a Barreca avrebbe fatto pensare che ormai nulla si poteva più fare per liberare la casa, che anche la figlia lasciata all'incamera sarebbe stata uccisa dai diavoli. E poi sempre ha notato un altro messaggio, dite al pastore di pregare per me. Ma quale pastore? Sappiamo che Massimo e Sabrina negli ultimi anni ne hanno frequentati diversi, chi più, chi meno assiduamente, qualcuno come Mario Merlo li ha allontanati per alcuni loro comportamenti non in linea con i principi della chiesa cristiana evangelica. E come hanno reagito loro davanti a queste sue dubbi? Si sono fatti un po' i conti, hanno deciso di andare via. Negli ultimi mesi avevano frequentato questa chiesa del quartiere Brancaccio di Palermo, del pastore Samuele Cascio. Loro sono venuti, sono stato un periodo, dopo, a fine novembre, primo dicembre, sono scomparsi, neanche l'ho più visti. Quindi hanno frequentato la sua chiesa da novembre a dicembre? A fine novembre, sì, fino a novembre, non l'ho più visti, completamente scomparsi. Chi sarebbe allora il pastore a cui Sabrina Fina fa riferimento? Magari proprio la persona con la quale Massimo scambiava chiamate e messaggi durante la strage? Il suggeritore che li teleguidava? Grazie.